Presidente, grazie al lavoro dell'Istat, l'Italia è il primo e unico paese europeo ad avere un sistema informativo aggiornato, completamente dedicato al mondo della disabilità. È un primato importante, com'è stato raggiunto? Beh, è stato raggiunto attraverso, intanto, una forte sensibilità rispetto al fenomeno, rispetto all'importanza di questa componente della popolazione e un gruppo di lavoro che ha lavorato intensamente, coordinato dal professor Franzini, che è riuscito a valorizzare tutte le fonti disponibili, mettendo in relazione anche fonti amministrative e registri, in modo tale da ottenere un quadro della situazione, ma soprattutto mettere in evidenza le problematiche e in qualche modo suggerire quelle che poi possono essere le soluzioni per migliorare la qualità della vita di questa popolazione. Grazie a tutti!